Festival internazionale del cinema, siamo qui a Roma all'auditorium, eccolo qui dietro di noi, i due padiglioni principali siamo sul red carpet, in questo punto scendono i VIP per regarsi, gli attori, i registi e altre celebrità per regarsi lentamente al red carpet e alla piazza di fronte ai fotografi e oggi è un giorno tranquillo, giornata un po' uggiosa, è passato prima per la seconda volta anche Thomas Millian oggi esattamente è venerdì della prima settimana del festival, ecco qui un altro lato del red carpet, parecchi fotografi anche curiosi, turisti e amanti del cinema ci saranno anche Richard Gere nei prossimi giorni e altri VIP attori come anche Kevin Costner e abbiamo visto prima un abbraccio tra Thomas Millian e la ancora bella Barbara Boucher un abbraccio dopo circa 30-40 anni dai loro lavori cinematografici sulla commedia brillante italiana negli anni 70 e 80 per il momento è tutto, da Roma Auditorium Festival della Musica e Internazionale del Film di Roma